Lo scorso ottobre la sconfitta di San Siro contro l'Inter costò alla Roma la perdita del primo posto con il ritorno di Spalletti la squadra giallorossa è rinata ma anche l'Inter sta risalendo trentesimo turno di Serie A D ma all'Olimpico si scrive la storia di una grande sfida classica del nostro calcio Roma-Inter, ben trovati, buon divertimento e un saluto da parte di Matteo Marchetti Roma terza in classifica, protagonista della più lunga striscia positiva in corso con otto vittorie consecutive, sono invece due di fila quelle dell'Inter inizia Roma-Inter, il primo quando il desidero tenere a curi Florenti che lascia Salah dietro a cercare il Charaoui Occhio piange la vita, un po' di tiro contro il Charaoui e con la Torotti, battone alto sotto la terra, essa è la prima vede di Roma Venti, buona vita, ma è verrà Vanti, 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 vanti Venti, vanti, 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 vanti A Tanovic, grandissima risposta! Il ritrovo, il ritrovo, il ritrovo, la mano è recuperato, due passaggi e Fyrsi c'è in forna. Buono il controllo dell'Egiziano che va dentro da Dzeko, controllo del post-diamone, poi l'apertura verso dove vincere Pioti, guarda in mezzo per il post-diamone di cross, colpo di testa di Dzeko! E a Tanovic, a Tanovic, a Tanovic! Berotti, il ritrovo di centrale, colpo del suo, sarà dentro per Dzeko, posizione regolare! Non c'è questo che basta, non c'è di rimettere, in fronte l'1-1 Andando altissimo, sopra, la notte mi andava in giro Se non trovava la risulta, di difficoltà, non c'erano gli occhi, ma non mi metto E le sfila, non arriva nessuno, i motoristi Non c'erano gli occhi, ma non c'erano gli occhi, ma non c'erano gli occhi Andando su nessuno, non mi volete Non c'erano gli occhi, ma non c'erano gli occhi La corsa della Roma, la corsa della Roma e la costringe al pareggio dopo otto vittorie consecutive. La corsa della Roma, la corsa della Roma e la costringe al pareggio dopo otto vittorie consecutive. La corsa della Roma, la corsa della Roma e la costringe al pareggio dopo otto vittorie consecutive.